24 ore dopo l'annuncio del direttore generale Giovanini è arrivato l'accordo che prolunga il rapporto tra Larezzo e Pattarello. Il giocatore si è legato alla società Maranto fino al 2027 quando tutte le parti hanno espresso la volontà di rinforzare il legame non ci sono stati più problemi. Pattarello era assistito dal suo procuratore Laretino Gianni Maggi che ha svolto un ruolo importante in questa fattispecie. Dall'altra parte non ha mancato l'occasione di essere presente proprio Guglielmo Manzo che per Pattarello ha una passione viscerale visto che fin dal giorno della notizia dell'interessamento delle regiane era stato esplicito nel dire che Pattarello non si sarebbe mosso da Rizzo. Sono qui apposta perché abbiamo il nostro top player adesso quindi di conseguenza che nessuno ci lo possa toccare nei prossimi anni e cerchiamo di fare una scalata insieme più alti possibile. Intanto zona ha lasciato la società Maranto destinazione Messina sede C girone C mentre per Corsinelli domani dovrebbe essere il giorno del suo passaggio all'Erizzo. Nell'ultima ora è cresciuto l'interesse per Catanese l'arrivo del centrocampista del Pontedera sembra imminente.